allora solare lui proprio lui l'attore con la maiuscola vado veloce i ruoli sono infiniti ed è soltanto una parte e figurati e adesso in poi cosa non farà lini bruschetta grazie 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 ma guarda posso partire posso dare del tuo avosia vero il sicilianissimo meravigliosissimo nini bruschetta allora nini bruschetta nel 2016 a sintesi di una carriera lunghissima che è solo l'inizio la prima parte della sua carriera perché poi adesso abbiamo tutta la seconda parte la pensione ma che pensione ma di ha scritto manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista perché perché per dare una mano a qualcuno anche per per parlare con i giovani per raccontare che cos'è questo mestiere che è anche una cosa molto seria e quindi con un po di freschezza di allegria di colpi di sfortuna o di fortuna ho cercato di fare capire che c'è sempre una strada corretta per arrivare a fare qualcosa in cui credi che ti piace tu sei prima di tutto un grandissimo attore con una come posso dire con un ruolo che come tu dici è quello dell'eterno non protagonista ma io rilancio c'è danno l'oscar per il miglior attore non protagonista a hollywood il non protagonista è è una figura altissima di di grande valore ma dico di più non è scritto nel libro ma io molto il libro uscito da qualche anno e facendo anche l'attore ho fatto tantissime presentazioni differenza di molti scrittori che magari non può non girano tutta l'italia invece sono stato invitato dovunque a rappresentarlo e durante le presentazioni mi è sempre venuto in mente una metafora delle scritture islamiche che dice che una goccia presa dal mare è una goccia ma dentro il mare e mare e una delle cose più belle quando un attore non protagonista viene fermato e quella persona che è entusiasta del tuo lavoro ti dice ieri sera ho visto il suo film che ti attribuisce la paternità del film perché tu sei parte di quel film quindi sei anche quel film il giudice ragazzino l'uomo in più alla firma è di paolo sorrentino mio fratello e figlio unico daniele lucchetti la mafia uccide solo d'estate di pif in tv paolo borsellino aldo moro il presidente di gianluca maria tavarelli generale della chiesa di giorgio capitani boris e la linea verticale di mattia torre squadra antimafia di pier belloni un posto al sole fuori classe di ricaro donna i bastardi di pizzo falcone e mi viene l'ansia poi devo dirgli tutti questi questi film i titoli sono sono quasi 100 adesso da quando ho cominciato ma io ho cominciato a 25 anni quindi anche ragionevole oggi ne ho 57 è un ragazzino se un ragazzino ragazzino vero e hai iniziato per nostra immensa fortuna perché ho iniziato per non fare l'avvocato era figlio unico di un papà avvocato figlio unico di un papà avvocato ma soprattutto di mamma che voleva assolutamente che io facessi l'avvocato mentre mio padre era un intellettuale era una persona che era anche aperta a delle scelte forti perché era diventato avvocato eccola qui la mamma poi ci siamo tra poco sulla mamma era diventato avvocato venendo da una famiglia diciamo che non era una famiglia né di avvocati né di notari né di altri non poteva proteggerlo e lui aveva conquistato questo il suo lavoro che faceva benissimo tra l'altro e quindi era perfettamente consapevole che io volevo fare una strada precisa poi lui amava molto il teatro quindi era più facile con la mamma è stato più complicato la mamma allora la mamma la mamma di nini è stata una donna insomma io lo leggo dai dai suoi ricordi strepitosa no mamma che ha sempre ha sempre mantenuto quel tono garbatamente non critico ma insomma devastante della serie c'è francesco panno fine tv cioè lei ti chiamava per indicarti c'è il tuo amico in televisione perché non ve lo aveva dire il nome perché non le piaceva il francesco che invece è un attore straordinario però lei era era così poi giudicava anche i conduttori televisivi secondo se mi invitavano o no alle trasmissioni ovviamente in questo caso sarebbe stato una tua fanna meno male sono contenta è bravissima stupenda perché ti invita e no invece la cosa era che era molto caustica era era una donna io dico che mamma era un aristocratica veramente nel senso anche di una nobiltà d'animo era una persona caritatevole era molto severa con se stessa e con diciamo le cose che gli appartenevano quindi suo figlio il suo figlio era un episodio per esempio io non ho raccontato nel libro di mia mamma fu quando uscì squadra antimafia che lei mi telefonò per ultima squadra antimafia uscì facendo un botto di ascolti e quindi noi misuriamo anche con i messaggi che riceviamo più o meno qual è l'audience secondo quanti amici ti hanno visto in proporzione capisci mamma non si fece sentire io andai a facevo un laboratorio per il teatro di roma diciamo al teatro di torbellamona che l'ho dislocato con dei giovani alle sei e mezzo sette mi arriva la telefonata di mia mamma che comincia a commentare questo film e dice era bello è piaciuto ha detto ma strano ma che di solito non ti piacciono mai dice no 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 era bello dice però io l'unica cosa quando vengo a roma mi devi fare conoscere questo regista e tocca che ti è piaciuta particolarmente la regia dice no perché gli fici brutto figlio ma brutto ora da una mamma uno non si aspetta no che però devo dire che mi rimetteva con i piedi per terra non ho mai avuto grilli per la testa forse anche grazie a lei no assolutamente le va un applauso che lanciamo verso l'alto perché è bellissimo però voglio conoscere il regista perché ti fici ti fici brutto troppo brutto meraviglioso il fatto di aver interpretato e l'ha interpretato più volte insomma tu riesci a essere quello cattivo e l'eroe straordinario è l'attore no l'attore è il la sospensione del giudizio sì sì esattamente poi anche l'amore in scena richiede una sospensione del giudizio perché bisogna amarsi veramente bisogna amarsi veramente l'unico modo per far vedere di essere innamorati è amare no se tu vedi due persone che camminano per strada e si amano ti accorgi che si amano senza motivo senza bisogno di capire perché due persone che si tengono per mano non in maniera distratta per esempio sì oppure ma anche che non si tengono per mano se si amano si vede che siamo se tu vedi due attori che non si amano e magari fanno delle cose amorose diventa pornografia è brutto è volgare invece se vedi l'amore è forte e tu sei morto come tante volte tante volte ed è una cosa a noi prende un colpo ci sono stati i tuoi tifosi voglio dire c'è stato chi ti ha chiesto di di scrivere la scena della tua della tua morte insomma perché il tuo personaggio era era un personaggio di quelli che è poi quando non lo avremo più con noi come faremo ecco come come si fa come si vive la propria morte in scena tu sei stato un inica sarà straordinario straordinario è un ricordo tra l'altro bellissimo di quello che ho raccontato ampiamente anche con l'episodio proprio della morte no no raccontamelo sì però volevo aggiungere una cosa prima nel senso che la morte proprio nel suo senso più ampio e come dicevano anche tantissimi grandi autori di teatro convive con con la vita dell'attore cioè noi il fatto di raccontare storie e di interpretare personaggi significa nascere e morire continuamente di solito di solito gli attori escusi casi storici tra cui il più grande forse di tutti che abbiamo avuto non hanno mai paura della morte e perché hanno anche il privilegio di vivere tante vite che è un privilegio che tutti noi vorremmo e quando quando c'è così si interpreta la morte di qualcuno intanto bisogna dire chi è il personaggio nel caso di nini cassara era una persona diciamo di cui io ricordavo tantissimo avevo anche un'esperienza personale di un caro amico che lo incontrò una settimana prima che lui venisse ucciso e così come anche avevo il ricordo per esempio del marasciallo leonardi uno dei momenti più belli della mia carriera e spero di non commuovermi mentre lo racconto è stato quando ho incontrato al lito cambrinus di di roma di e di ostia proprio quando presentavo il libro un bel signore in costume da bagno che mi ha detto lei ha interpretato mio padre ed era il figlio del marasciallo leonardi è stata una cosa fantastica quindi lì c'è anche il fatto di rendere omaggio no a queste persone quindi viene in secondo piano io addirittura nel libro scrivo quando quando mi misero addosso questa giacca piena di colpi l'entrata che chiaramente ti fanno paura no perché sono delle delle piccole bombe che ti esplodono addosso e ma è anche paura banalmente che di bruciarti di farti male così prima di farlo pensai a lui e pensai lui l'ha fatto veramente nel senso l'ha fatto per noi e allora se mi brucio non ci sarà perché si chiama talento talento a essere quella persona no lo so è il lavoro dell'attore però è in in certi attori è molto di più certi attori è molto secondo me dovrebbe essere il minimo va bene dovrebbe essere il minimo non voglio essere caustico come mia mamma lo stavo dicendo se no poi ci scendono le lacrime sia a te che a me e diventa un problema per te meno per me poi devo continuare a farti le domande e quindi e quindi beppe fiorello che c'è una domanda beppe fiorello no è un nome ed è un'affermazione un amico insomma voi avete lavorato lavorate bene insieme siete vicini abbiamo fatto un bellissimo film insieme come è normale che sia e questo è quando è venuto a presentare proprio il mio libro è una foto della libreria felterinelli anche lì insomma infatti questo è l'amicizia ovviamente alla nostra età e con questo lavoro non è che non corrisponde con la frequentazione corrisponde con delle condivisioni delle affinità elettive io nel libro racconto proprio il fatto che ovviamente il fatto di essere siciliani unisce in un modo non stucchevolmente campanilista ma proprio sono delle atmosfere e poi c'è sempre quel gioco che penso appartenga a tutti della lingua che che ti consente di dire delle cose che sono fatto che quando io sento beppe per telefono lui mi risponde mi dice cucci che significa cugino cucci però semplicemente perché appunto è un modo di chiamarsi o come tante volte ci chiamiamo compare con altri che più messinesi perché lui invece della zona di attenzione poi sia tutta una storia messina giusto e quindi messina parla un'altra lingua messina ebbe messina c'è c'è un motivo molto antico nella tutta la parte orientale della sicilia così come la parte dell'eccese e di reggio calabria non è stata influenzata dai normanni perché i bizantini li fermarono proprio a reggio calabria e a lecce e quindi i nostri dialetti sono molto simili sono tutti dialetti freddi di testa tutti con delle cantilene forti eccetera mentre il dialetto valermitano quello anche dell'entroterra il trapanese eccetera sono più influenzati al normanno e somigliano un pochino più al napoletano come ho capito una cosa in più finalmente perché nella mia redazione a io sono di palermo a messina questo non si dice e quindi ogni tanto sono diversi mi sfugge i termini abbiamo abbiamo delle cose da da chiedere di corsa velocissimi fino al 9 febbraio al brancacino di roma con il mio nome è caino che cosa vediamo è un personaggio cattivo come dicevi prima tu è un testo di claudio fava che non ha il genio di spostarsi da vittima della mafia diretta e al dentro la testa del dell'assassino e attraverso questa questo racconto riesce anche in modo ammirevole secondo me perché è un racconto di fantasia ma fortemente ispirato a vari episodi riesce a raccontare anche una cosa molto importante che che bisognerebbe conoscere alcune volte forse anche insegnare nelle scuole che è la storia della mafia che non è una storia qualsiasi è una storia divisa in tre parti cioè la mafia rurale la mafia che viene dalla occupazione dei latifondi dei nobili che diventano poi di proprietà dei mafiosi che la mafia antica la mafia del codice d'onore la mafia dei killer che questo personaggio racconta rappresenta che il periodo degli anni 80 90 che poi porta alla collusione quindi alla mafia istituzionale alla mafia bianca allora nini bruschetta ha un vero difetto questo lo devo lo devo dichiarare verissimo difetto e dovresti stare a sentire per ore e quindi nella nel tempo che pure c'è stato ma considero troppo breve ha il difetto di 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 farsi rinvitare nuovamente che diventa automaticamente pregio grazie di essere stato con noi troppe le cose ancora da chiederti grazie 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 ci fermiamo solo per un istante grazie